Questo strumento suoni, tastiera, chitarra elettrica, la batteria, un buon motivo per ascoltare musica classica, perché mi rilasso, se ti vuoi rilasciare, non ascolto, un buon motivo per ascoltare la musica rock, perché ti gasi, per allegrarti, perché è bella, un buon motivo per ascoltare la musica rap, ti impari a parlare veloce, non ascolto, non ascolto.